Il Vangelo è sempre una cosa meravigliosa Io stesso, penso di averlo detto altre volte, quando faccio questi incontri sono altamente contento perché anche per me rivedere, ripensare, ricontemplare un po' il Vangelo è sempre una grandissima gioia perché non è mai abbastanza quello che noi conosciamo e meditiamo sul Vangelo L'incontro di stasera sarà in due parti, in teoria, possiamo vedere se in pratica dove ci porta il vostro Signore La prima parte è il Vangelo di secondo Luca riguardante la risurrezione La volta scorsa, vi ricordate, era poco prima di Pasqua, abbiamo fatto la passione secondo Luca, stiamo nel tempo di Pasqua, c'è la risurrezione Poi dobbiamo tornare un pochino indietro perché la seconda parte del Vangelo di Luca, quella sul lungo viaggio di Gerusalemme, ne abbiamo visto solo una parte perché incombeva la necessità di vedere la passione Quindi è un percorso un po' avanti e indietro, ma fa niente insomma come Dio vuole, tanto il mese prossimo ci sarà un altro incontro dove sicuramente riusciremo a, sicuramente, speriamo di riuscire a concludere tutto Allora, alle mie spalle vedete un pochino di slides, prima ce li vediamo un attimo un pochino insieme Come sempre noi vediamo il Vangelo, qui i racconti di Luca sono tutti quanti, praticamente quasi tutti quanti i suoi particolari Quindi vedete che proprio oggi scrive un articolo sul settimanale di Padre Pio dove faceva riferimento alla rivelazione al Nuovo Testamento La Chiesa stessa insegna che il Vangelo è quadriforme, quindi perché queste quattro sfaccettature ci presentano un'immagine completa È chiaro che gli evangelisti accentuano alcuni aspetti in funzione, punto primo, della fonte Ricordiamo sempre che di San Luca c'è San Paolo, quindi le cose che San Luca scrive risentono dell'impostazione, dell'influsso della predicazione paolina E anche dietro, questo impariamo sempre, le comunità a cui quei Vangeli sono destinati San Luca scrive per i pagani, San Paolo predicava i pagani, non principalmente agli ebrei E quindi sempre dietro queste lenti, come queste che portiamo a chi di noi porta gli occhiali, dobbiamo leggere gli episodi Allora, qui ci abbiamo I due uomini in veste sfolgorante, chiaramente chi di voi che è tanto bravo che viene ammessa Abbastanza spesso frequentemente queste cose le ha già in parte sentite Soprattutto nell'ottava di Pasqua con i racconti della risurrezione Poi vengono detti i nomi delle donne, vi ricordate? Già abbiamo incontrato le donne, le donne è un tema caro al Vangelo di San Luca Dicevano che San Paolo era maschilista Tutti quanti i racconti sulla Madonna stanno tutti nel Vangelo di Luca I nomi delle discepoli di Gesù stanno solo nel Vangelo di Luca La conversione di Maria di Magdala sta solo nel Vangelo di Luca Solo San Luca riporta i nomi di tutti quelli degli tagliati, di tutte quante le donne che vanno al Vangelo San Paolo è maschilista, vabbè Il Cereberghi, un episodio di discepoli di Emos Questo l'abbiamo letto durante l'ottava di Pasqua e l'abbiamo commentato Un episodio veramente bellissimo e molto edificante Poi abbiamo Gesù Risorto che mangia il pesce Questo è un particolare che soltanto Luca ci riporta Se l'anno prossimo andremo in Terra Santa Uno dei posti più belli di tutta la Terra Santa Si comode? Comode che sanno E qua sapete qual è? Ma è stupendo È il posto dove c'è una chiesetta Perdonate questa cosa un po' Dove c'è si venera la pietra dove Gesù stava arrostendo i pesciolini Che poi si è mangiato pure lui L'apparizione sul lago di Periade E lì proprio sulla sponda ci sono Mi ricordo se tre o quattro cuoricini a forma di pietra che si vedono sotto l'acqua E' uno dei posti Io soltanto che ci penso Ecco rivado in estasi cosciente Bello proprio La Galilea in Terra Santa Gerusalemme Ma la Galilea Chi va in Galilea ci lascia il cuore Ecco vabbè Il luogo dove Gesù è vissuto Dove è cresciuto Quindi E dove a predicarlo insomma Poi la Gerusalemme ha passato i guai Certo c'è pure Passato la crua della risurrezione Però la Galilea Chi può venire in Terra Santa Non c'è mai stato Non si lascia perdere l'occasione Perché Io quando penso alla Terra Santa Ragazzi vabbè Parliamo del Vangelo di Luca E poi Gesù apre la mente Alla comprensione delle scritture E poi il Vangelo che ci sentiremo Tra Dunque quinta e sesta Tra tre domeniche Che è l'ascensione San Luca chiude il Vangelo Con la descrizione sintetica dell'ascensione Ecco Adesso ce li andiamo a gustare Questi piccoli brani Cercando di ricogliere Insomma di qualche commento Circa la loro peculiarità Ecco Sapendo che li abbiamo già Insomma ampiamente Visti durante La settimana in Albis E il tempo di Pasqua Allora Numero 1 Il primo giorno Dopo il sabato Di buon mattino Si regarono alla tomba Portando con sé Gli aromi che avevano preparato Si regarono alla tomba Le donne Detto prima Che erano venute con Gesù Dalla Galilea Che seguivano Giuseppe Poi più avanti Come vedremo Farà i nomi Trovarono la pietra Rotolata via dal sepolcro Ma entrate Non trovarono Il corpo del Signore Mentre erano ancora incerte Ecco due uomini Apparire vicino a loro In vesti sfogoranti Essendosi le donne Impaurite E avendo chinato Il volto a terra Si dissero loro Perché cercate Tra i morti Colui che è vivo Non è qui È risuscitato Ricordatevi Come vi parlò Quando era ancora in Galilea Dicendo che bisognava Che il figlio dell'uomo Fosse consegnato In mano ai peccatori Che fosse crocifisso E risuscitasse Il terzo giorno Ed esse si ricordavano Delle sue parole Allora Durante il tempo di Pasqua Se vi ricordate Io tante volte Ho cercato di Far cogliere Il messaggio fondamentale Di questi eventi Lo rivediamo un'altra volta La risurrezione di Gesù Non l'ha vista nessuno Neanche la Madonna La Madonna è stata La protagonista Dell'incarnazione Ma non ha visto Il fatto Non c'era Il sepolcro Però la Madonna È stata l'unica Che ha visto Gesù Senza Preliminari Nessuno Ha visto Gesù Risorto Senza prima Questi preliminari Le donne vedono Sepolcro vuoto Con la pietra Rotorata via Un altro Vangelo Ci dice Che La pietra è stata Rotorata via Ci avevano proprio Gli angeli Che rotolano via La pietra Per fargli capire Che non era stato Gesù Perché capite Che Gesù Lui era uscito a porte chiuse Ecco Non qui però E poi gli angeli Che gli annunciano Gli dicono È risorto Ricordatevi Le parole Che lui aveva annunciato Gli annunci della passione Che dovevi andare a Gerusalemme Morire E risuscitare Questo come ho accennato Per far capire Che la risurrezione È una realtà A cui si accede Mediante La fede La fede viene dall'ascolto La Madonna Non ha avuto preliminari Perché lei non ha mai dubitato Che Gesù risurgesse Perché quella Ma però Ce l'ha creduto D'accordo E non c'era bisogno Vedete La tomba vuota Non è la prova Della risurrezione Perché la tomba è vuota? Ricordate che Maria di Magdala Anche la grande Maria di Magdala Questo ciò lo dice San Giovanni Se Dio vuole Lo vedremo L'anno prossimo L'angelo di San Giovanni Dice che Maria di Magdala Va lì Tutta la ripiangeva Perché è Gesù E va a dire L'hanno rubato La tomba vuota Non significa che è risulta Potrebbero averlo rubato Capite? Potrebbe qualcuno Ha forzato la pietra La rotolata Per quanto con sé Ha fregato il corpo Quindi Quindi questo ci fa comprendere Come La fede Noi andiamo a messa Che cos'è L'osce dopo la consagrazione E rimane sempre ostia O è il corpo di Cristo Accomodiamoci D'accordo? E vediamo quello che pensiamo Questa è la fede Quindi la risurrezione È un evento Fondamentalmente Di fede Ecco perché Gli evangelisti Tutti Descrivono Sempre questi particolari Attenzione però Sentire un angelo Vedere direttamente La tomba vuota È già una cosa grossa Perché le donne Sì Non erano grandi Come la Madonna Nel senso Che ci avevano creduto Senza dubbio Ah però le donne Erano state sotto la croce A questo sì Le donne Durante la fanno Una grandissima figura È Molto migliore Non è un caso Che almeno in Italia Le più Le chiese Che sono popolate Principalmente Di donne Sono fedele al Signore Con grande vergogna Degli uomini Io dico sempre E quando si va In terra santa Se vede Su questo Dio mi perdoni Ma noi cattolici Parlo da maschi Oltre che da prete Siamo ancora inferiori Ai nostri fratelli Maggiori ebrei Perché su una terra santa Vede che Gli ebrei osservanti Per gli uomini È un onore E un dovere Dare culto a Dio Le donne Partecipano Di questo onore Degli uomini Quindi cioè Capite Mentre qua Da noi Per gli uomini Vergogna Dovete entrare in chiesa Confessarsi Non so se sei matto Va a fare la comunione Mamma mia Stai in chiesa Troppo vicino Non stai Capite Troppo vicino alla porta Ma da vicino Un po' troppo Per carità Su questo Ci abbiamo da fare Un po' di Di mea culpa Ecco Va bene E quindi Gli apostoli Capite anche Che il nostro signore È anche giusto Oltre che buono Gli apostoli Si erano scogliati Da tutti quanti Pietro Aveva rinnegato Quindi Gesù Gli vorrebbe Era lo stesso Ma loro Dicevano L'annunzio Della risurrezione Dalle donne Che sono le apostole Degli apostoli Questa è la grande Moltificazione Per gli apostoli A quei tempi Qua ancora Se lamentano le donne Che non c'è niente Da lamentarsi Ma a quei tempi Era tanta roba Che le donne Vengano a annunciare A me La risurrezione Del maestro Capito A me Che sono uomo Che sono apostolo Io sono il papa Capito San Pietro Le considerano Le chiacchiere Tornate dal sepolcro Non siamo tutto questo Agli undici E a tutti gli altri Ed ecco i nomi Erano Maria di Magna Giovanna Giovanna Questa è La moglie Di Cusa Abbiamo visto Nel capitolo Ottavo Amministratore Di Erode Quindi E Luca Apposta Lo dice La moglie di Cusa Amministratore Per dire Quella era una donna Potente con un sacco di soldi Non era una popoletta Quindi una donnetta così Era una donna Influente In Israele E Maria Di Giacomo Maria di Giacomo È La zia Per parte di San Giuseppe Di Gesù Perché è la madre Si chiama di Giacomo Cioè di Giacomo Il cugino del Signore Detto nei Vangeli Il fratello del Signore Quello che sarebbe stato Il primo vescovo Di Gerusalemme No? Anche le altre Che erano insieme Lo raccontarono Agli Apostoli Quelle parole Parvero loro Con un vaneggiamento E non credettono ad essi Quindi Ne hanno creduto Alle parole di Gesù Prima della Passione Né Alle parole delle donne Dopo la risurrezione Qui c'è un piccolo scenno Nel setto dodici A ciò che invece Nel gioco di San Giovanni Lo vedremo l'anno prossimo È raccontato per esteso Pietro corse al sepolcro E Chinato si vide le bende Solo le bende E tornò a casa Pieno di stupore Per l'accaduto In realtà insieme a San Pietro Come ci racconta San Giovanni C'era anche San Giovanni San Giovanni Aspetta che entri Pietro Pietro vede Vede le bende E rimane stupito San Giovanni entra E lui stesso nota E vide E credette Il primo degli apostoli Quindi San Giovanni Se avete preso un po' Vi dico queste cose Perché comprendiamo Guardate che Nell'agire di Dio C'è una sapienza Perfettissima Noi non sappiamo vederla Ma di me se può di niente Ma noi saremo tutti quanti morti Che vedremo tutte quante le cose Con gli occhi suoi A Dio Non si può di niente Niente Si può solo che chiacchierà Ma secondo giustizia Non si può di niente Allora San Giovanni Era scappato A Gezzemmi Però poi si era ripiato Perché sappiamo Con certezza D'Evangeli Che stava Con Maria Sotto la gluce Quindi E' caduto Come tutti gli altri Ma si è ripreso E quindi Anche lui Come tutti gli altri Perché era caduto Riceveva l'annuncio Di risurrezione Dalle donne Poi Malzio Volcro Però E' il primo A ricevere la luce Per capire Che Da quello che vede Capisce Che è arrivato Arrivarci C'è una luce Perché quella cosa L'ha vista anche San Pietro Secondo voi Cosa ha visto Dentro il sepolcro Quando Io ho fatto Tanti incontri Negli anni passati Sulla Sulla Sagra Sindone C'è una seria Possibilità Allora La Sagra Sindone Presenta Un'impronta Allora Che non è come Quando Se io sono morto E tu mi metti Un panno sopra D'accordo Se poniamo sopra Sopra la faccia Lo mettiamo Se tu lo apri Ti viene una faccia Grossa così Deformata Perché Capite Il telo Non è uno specchio Quindi Se prendessi direttamente La faccia Ti viene una faccia Grossa così Ma nella Sindone La faccia Non è grossa così C'è una faccia Come dire Deformata Ma una faccia Con le dimensioni Del essere umano Capite Perché 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 l'impronta Sulla Sindone Non si è formata Da questo Ma si è formata Quando Gesù Con un fiotto di luce Ci è passato attraverso I sagrini E è uscito Quindi Quando è risorto Gesù Guardate Le faccia un po' La torre Non è che Si è spiegato E ha fatto E è uscito No Ci è passato attraverso E i lini si sono Quindi Trovando quel lino Come se ci fosse Ancora dentro Capite Allora Uno poteva pensare L'hanno tolto E l'hanno rimesso Come stava Anche qua Capite E uno può pensare Questo ci è passato attraverso È ancora purificato Questo è risorto Veramente E San Giovanni È il primo Che ci ha avuto La luce Fra tutti gli apostoli Perché? Perché dopo la caduta Sei ripreso È stato sotto la croce Fino alla fine Capito? Questi sono piccoli Squarci di luce Che il Signore Ogni tanto ci fa capire Ecco perché Dice il libro Della Sapienza Che abbiamo finito Di meditare Nore sante Che Noi non capiamo quasi niente Tutte le opere di Dio Noi ne possiamo contemplare Cioè Nel presente Uno Voi sapete che esistono I titrilioni adesso Uno su trilioni Di trilioni Di trilioni Niente Praticamente Niente San Tommaso d'Aguino Che è stato uno dei più grandi Conoscitori di Dio Diceva Per quanto possiamo Conoscere Pensare Dire di Lui È niente In confronto A ciò che gli è Cioè Ricordate che San Tommaso d'Aguino Fortuna che Non ha bruciato tutte le cose Che voleva bruciare tutte le cose Che aveva scritto Perché prima De morire Dicebbe una Estasimistica Dove vide Qualche cosa Di Dio A quattro occhi Ha chiamato Volare Ha chiappato Voleva andare a bruciare tutto Quello che aveva scritto Fortuna che c'era Fra Reginaldo Che ha detto Che era Ma che l'ha piato Per il sedo Fortuna Ma tutto quello che ho scritto È paglia Dio è infinitamente più grande Noi siamo buoi E ci mangiamo la paglia Quello di Ettore Per te Perché non abbiamo visto C'è basta quello che hai scritto Fortuna Ma se voi sapeste Quello che ha scritto San Tommaso Dio Lo conosceva abbastanza bene Cioè Per quanto fosse Una conoscenza di fede E intellettuale Però Rimane vero questo Ecco Qui qualcosa Scorgiamo Quindi la perfezione assoluta Delle opere di Dio Ecco Poi c'è l'episodio Celebre Di licevoli di Emmos Che più o meno Conosciamo tutti quanti Questi due che si affiancano Non riconoscono Gesù Questo è un tema tipico Delle racconti Delle apparizioni Tu lo vedi Ma non lo riconosci È un modo per dire Che Gesù È lo stesso Ma non è lo stesso Quindi dopo l'esurrezione Sei lo stesso Ma non sei lo stesso Ed è anche il modo per dire San Paolo scrive Nelle sue lettere Anche se noi abbiamo Conosciuto Cristo Secondo la carne Non lo conosciamo Più così Cioè Ed è anche Terzo punto Un modo per dire Che tu a Gesù risolto Ci puoi arrivare Solo se Lui Ti ci fa arrivare Solo se Lui Si fa vedere Altrimenti no E sapete A questi di l'improvera Leggiamo soltanto una cosa Voi sapete Che dice Chi è? Che è successo? Che è stato a fa? Dice Ma come che stiamo a fa? Ma solo tu non lo sai Che stiamo a fa? Ma non sai che è successo Che Gesù il profeta è morto A destra e a sinistra Dice Veramente Raccontano un po' Dice Ma sì Ma lui era un grande Dice è venuto Dice Noi speravamo che fosse lui Versetto 21 A liberare Israele Ma sono passati tre giorni Però alcune donne Delle nostre Ci hanno sconvolti Sono andate al mattino Al sepocco Ah non avendo trovato il corpo Sono venuto a dirci Di aver avuto una visione Di angeli I quali affermano Che egli è vivo Alcuni dei nostri Vedete alcuni Cioè Pietro e Giovanni Sono andati al sepocco L'hanno trovato Come avevano detto le donne Ma loro non l'hanno visto E qui Gesù Attenzione a quello che dice Sciocchi Potremmo anche dire stupidi Ma non in senso offensivo D'accordo? Perché Gesù ha detto Chi dice stupidi A un fratello Sarà sottoposto A un sinedrio Ma in senso descrittivo Perché lo sciocco O lo stolto Nella Bibbia Nella Bibbia E chi? Non fa funzionare il cervello Quindi sciocchi E tardi di cuore Nel credere alla parola Di profeti In che senso Deva funzionare? Perché così capiamo anche Come funziona la fede Tu c'è tutte le profezie Dell'Antico Testamento C'è il libro Del profeti Questa è la Bibbia Non è come noi Invece metto pure io Io tutte queste cose Che vi dico Le so perché sono anni Che sto in ascolto Della parola Noi siamo tutti quanti Ignoranti Da un punto di vista biblico Ma gli ebrei no Gli ebrei la Bibbia Sapevano a memoria La Madonna La Bibbia La sapeva a memoria Ho detto tante volte Quando all'annunciazione L'angelo Dice guarda che nasce Il Messia Quando lei ha detto Sì lo sapeva benissimo Che quello sarebbe dovuto Morire Piede ricoperto di sangue Perché conosceva bene Il profeta Isaia E se ricordava Le profezie Quindi gli ebrei Cioè Ignoranzia Non erat Ok Cioè loro Non c'erano l'ignoranza Delle scritture Le conoscevano Dice ma tu sei scema Ma non hai letto Quelle cose lì L'uomo dei dolori Che ben conosce Il patire Com'uno dinanzi a qua Si si copre la palla Dopo il suo intimo Tormento Vedrà la luce Questo è il quarto canto Dal servo di Yahweh Che è venuto venerdì Santo All'adorazione della croce Se ricorda Che era una sesta cosa qua E non ci arrivi Che te l'ho pure detto Prima della passione Io devo andare a Gerusalemme Se compiranno in me Le profezie Sarò Flagellato Coronato di spine Sarò morto E il terzo giorno di Soro Allora Stolti Quindi sciocchi E tardi di cuore Perché non è soltanto Un problema intellettuale È anche un problema Di cuore Perché la fede Qualche cosa che coinvolge Dice la Chiesa Voi sapete che il cuore Nella Bibbia Non è la sede dei sentimenti La sede dei sentimenti Nella Bibbia Sono le reni Io sono colui Che scruta I reni E i cuori Dice Gesù I sentimenti stanno Qua Nel cuore È la sede Del centro dell'uomo Cioè Della volontà Cioè Tu hai una Parola annunciata Ci sono dei segni Che ti dicono Che quella parola è Però puoi Aderirvi O non aderirvi Chi è che fa l'ultimo atto Di aderirvi O di non aderirvi È la volontà Se vorreggiate La Chiesa Il cosa dice Il catechismo Il cosa è la fede La fede è un atto Dell'intelletto Che si apre A delle conoscenze Che vengono dall'alto Ma siccome Quelle conoscenze Non ti sono immediatamente evidenti Non sono dimostrabili Scientificamente Secondo la nostra Galileana Idea di scienza Dici La tomba vuota Ha rubato Gesù O è risorto Come aveva detto Questa è una scelta Che devi fare E questo è un atto della volontà Allora Sciocchi Perché non pensate alle profezie E tardi di cuore Perché Non aderite ad esso Cioè non volete crederci Capite? Ecco perché L'incredulità È un peccato Da confessare Quando uno non c'ha la fede Pecca Perché è un problema Non solo dell'intelletto Ma anche della volontà Chiaramente illuminata Dalla grazia Sì Alessandro Io lo faccio una domanda Com'è la crucifizione Da quanto ne so Antiferenza Della decapitazione Che era invece La morte pur regale E era la morte degli infami Chi è che ruba Un cadale Non infami? Ah beh Come chiede Cioè C'è il Vangelo C'è il Vangelo C'è il Vangelo Ha rubato il corno Lo spiega Lo spiega il Vangelo Di Matteo Cioè Secondo La diceria L'hanno messo in giro Le autorità giudaiche L'avrebbero rubato I discepoli Perché Perché siccome Lui aveva detto Che sarebbe risorto Dovevano poi andare A Come dire A Far perdurare Quest'impostura Dopo la morte E quindi lo ruba Ma a quelli di essere ebrei Non gli importava più niente Perché erano eretici Perché andavano appresso Al Nazareno D'accordo Quindi Questo è Ma questa domanda È ebrei Stasera C'è una carta A chiedere Ah questo bisogna Andagliela chiedere A quelli che hanno Perché ci hanno pagati I romani Per andare in giro Questa cosa qui È la finale Del Vangelo Di Matteo Che spiega E Matteo Scrive queste cose E Luca Non le scrive Perché Matteo Scrive agli ebrei Perché il Vangelo di Matteo Come abbiamo visto Il primo anno Che è stato qui a Sermoneta È rivolto Alla comunità Ebraica E quindi c'è tutt'altro Una serie di particolari Che sono proprio diretti Alla comunità ebraica Poi tornando ai discepoli Di Emmaus Quindi Dopo che li hanno improverati Comincia a rievocargli Tutte le scritture Il versetto 26 Non bisognava Che il Cristo Sopportasse queste sofferenze Per entrare nella sua gloria Cominciando Da Mosè E da tutti i profeti Spiega loro In tutte le scritture Ciò che si riferiva a lui Prima parte Quindi capite La Fede nella risurrezione È fondata Sulle profezie della scrittura E sulla fede Da restare ad essa Poi c'è la seconda parte Però Non basta ancora Si fermano in questo villaggio Trattengono Gesù E quando Fontavola con loro Prese il pane Disse la benedizione E lo spezzorodi De loro Allora Tenete presente Che Non vi scandalizzate E non fate pure Magari forse come una volta Nei primissimi secoli La messa Durava Grasso Non vi scandalizzate Queste cose qui Perché dovete poi capire Adesso la messa è una cosa santissima Perché poi la Chiesa Per amore E per riverenza Mano a mano Che cresceva nella comprensione Di quello che era Come dire L'Eucharistia È chiaro che ci ha Come dire Elaborato Una struttura Per darle una dignità Anche formale Ed esteriore D'accordo Ma queste sono cose Che si sono poi sviluppate Piano piano Nel tempo No Quello che aveva fatto Gesù Fanno la Pasqua ebraica Prende il pane Lo spezza E nel lato dello spezzare Dice questo è il mio corpo Offerto Che è per voi E lo distribuisce Per la comunione Quindi Capite Quindi questa cosa In quel contesto Era una bomba atomica Era Diciamo L'Eucharistia Così come È stata celebrata Nei primissimi tempi Non cominciare a dire Ah che bello Così la messa Magari La messa Durasse Dici Capite Però è così Era così E che succede Si aprirono gli occhi E lo riconobbero Quindi questo è un messaggio Molto Quindi perché Perché chi è che aveva fatto questa cosa Questi erano Avete visto no Questi discepoli di Emmaus Erano discepoli Qualcuno dice che facevano parte Vi ricordate che San Luca ci parla anche dei 72 Oltre che dei 12 Cioè Loro sanno Che le donne sono state Alcuni dei nostri Che sono Pietro e Giovanni Quindi erano amici loro Quindi non c'erano questi all'ultima cena Ma certamente sapevano quello che era successo all'ultima cena E quindi quando Spezza il pane Fanno Si Fanno l'atto di fede E dice Se spezza il pane È il Signore E un attimo Lo riconoscono E che sparisce Quelli che hai capito Quanto è importante questo Vangelo No? Perché Ci dice Che l'esperienza Viva di Gesù risolto È accessibile Dovunque In ogni tempo In ogni luogo Come Dall'ascolto della parola È dall'orazione del pane La Chiesa Proprio ammaestrata Da questo Vangelo La Messa di oggi Sapete com'è fatta Ci sono I liti di introduzione Che durano poco Signore della Croce L'atto penitenziale E la preghiera La domenica c'è anche il gloria Poi che cosa c'è? La prima parte della Messa Si chiama Liturgia della parola Cioè Ascolti E c'è chi ti spiega Le scritture E la seconda parte Come si chiama Liturgia eucaristica Che culminano Nella consacrazione E nella frazione Del pane Che è il gesto Che procede Che precede immediatamente La Santa Comunione Quindi Comprendiamo No? L'esperienza Di Gesù risorto Tu la vivi E la fai Quando? Quando è a Messa Capite quindi Quanto è bello E quanto è Importante Comprendere bene Queste cose No? Questo per quanto riguarda I discepoli di Emmaus Subito dopo I discepoli di Emmaus C'è un altro Edificantissimo Episodio Che è L'apparizione Di Gesù Agli Apostoli Allora Gesù appare Agli Apostoli E questo è Il famoso episodio Del pesce Che vi stavo Accendendo prima Appare Gesù Agli Apostoli E Quando Tornano I discepoli Di Emmaus Dal Signore Scusate Dagli altri Apostoli E riferiscono A loro Ciò che era Accaduto Lungo la via E come L'avevano Riconosciuto Mentre Si parlavano Di queste cose Gesù In persona Apparve In mezzo A loro E disse Pace a voi Questo è il saluto Del risorto Pace a voi C'è sempre così Perché Gesù Risorto Dice pace a voi Perché con la sua morte La risurrezione Si è fatta la pace L'uomo L'uomo è tornato In pace con Dio Perché i peccati Sono tutti quanti Espiati E perdonati Da un punto di vista Oggettivo La pace con Dio Ti fa ritrovare la pace Con te stesso Quando una persona Non trova la pace Questo ricordatelo sempre Se una persona Non piglia pace Dice Confessa Come Dio comanda La prima cosa Che gusta È una cosa Che non ha vissuto mai La profonda pace Del cuore E la morte La risurrezione Di Gesù È fondamento Anche della pace Che possiamo ritrovare Con tutti Perché se abbiamo Fatto qualcosa A qualcuno Ci abbiamo Il coraggio Di chiedere scusa E se qualcuno Ci ha fatto qualcosa Ci abbiamo La forza Di perdonare Ecco perché Gesù risorto Dice sempre Pace a voi Pace a voi E pace a voi Anche Diciamo che La sua risurrezione È proprio Il simbolo Diciamo così Vivo Del fatto Che tu L'hai incontrato Chi non sta in pace Non sta in comune Con Dio Questo possiamo Veramente Magari Non se ne rende conto Non lo sa Non sa di essere In peccato Queste sono tutte Quante le scostanze Soggettive Sono un'altra cosa Ma su questo Possiamo stare sicuro Se sta in pace Con Dio Sta in pace Se non sta in pace Con Dio In pace Non ci sta Non sa neanche Che cosa sia Stupiti E spaventati Credono di vedere Un fantasma Perché credono Di vedere Un fantasma Perché Gesù È entrato A porta E è chiuso Capite? Noi questo oggi Non lo possiamo capire Ma Ricordatevi quello Che vi dico Perché Tate attenti Che nell'altro mondo Ci ricordiamo molto bene Che cosa succedono I corpi Le nostre persone Le nostre persone Delle proprietà Per far Per far Riflettere Io faccio queste cose Perché il mio corpo È glorificato T'attento Che il corpo Glorificato mio Sarà il corpo Glorificato tuo Quelle cose Se risorgi nella gloria Le farai pure tu Perché i corpi Dei dannati Non risorgono così Voi sapete che Risorgeranno anche I corpi Dei dannati Il prossimo incontro Che faremo Con voi un po' giovani Ma i corpi Dei dannati Ci avranno solo una cosa Che non possono morire Ma i corpi Dei dannati Si portano tutte quante Le miserie Della vita terrena Sentono fame Sentono feme Sentono sonno Sono suscettibili Di soffrire E saranno torturati Per tutta l'eternità Senza la possibilità Di morire Non è una bella cosa Siamo in tempo di Pasqua Non ci pensiamo Non ci pensiamo Ma i corpi glorificati Saranno come Di Gesù Mangiano Possono mangiare Quindi godere Potremo Attenzione Qualcuno Ha raccontato Che in paradiso Si mangia Ma non perché Si ha fame Ma si mangia Perché si gode Della bellezza Delle creature Buone Che sono le cose Da mangiare Che Dio ha creato Per noi Qui adesso Se uno non sta attento A forza De mangiare Diventa una balena E se ne fa Il creatore Prima del tempo Oltre a un problema De linea Ma in paradiso Questo problema Non c'è Ok Quindi non è certamente La cosa più importante Ma il fatto Che Gesù mangia Pesce Ti fa capire Ti fa capire Che un corpo glorificato Può mangiare Ma non ne ha bisogno Perché per noi Mangiare Non è soltanto Dice Uno faccio Non abbiamo C'è Un godimento Se tu non mangi Mangiato Vissuta Ma era un corpo Vero Realmente Risuscitato Sia anche Per fargli vedere Che un corpo glorificato Può mangiare Quindi per dirgli Qualche cosa Che va anche Oltre L'episodio immediato E Gesù Prima di questo Dice Perché siete turbati Perché sorgono dubbi Nel vostro cuore Ancora Tu dici Ma se io vedessi Gesù risorto Siete sicuri Che se vedessi Gesù Come sapete Che tutte quante le persone Basta leggere La storia della chiesa E della mistica No Quando c'è Un santo autentico Fare attenti Così Vi ricordate Anche in giro Con il web Con queste cose qua O le persone Che parlano Che chiacchieroni Se uno C'ha un'esperienza Mistica autentica La prima cosa Che pensa È che Si è fatto un concetto E che Sta avendo Un'illusione Perché dice Ma ti pare Che la Madonna Apparì a me O che Gesù Cristo Apparì a me Già che uno Pensa così Al 90% Quell'apparizione Autentica D'accordo Invece I falsi Sono stati La montagna I falsi Veggenti I falsi Misse Eccetera Asservevano tutte le cose Che succedono E molte volte Il diavolo Che pietta appare Sotto altre Sottomentite spoglie D'accordo Ecco Perché siete turbati E perché sorgono dubbi Nel vostro cuore Guardate Nei miei mani Nei miei piedi Sono proprio io Toccate E lo toccano La prima cosa Perché Come potete pensare C'è un'allucinazione Perché molta gente Dice Se mi apparisse Gesù risorto Tu sei sicuro E poi Gesù risorto Sapete che ci sono Delle malattie psichiatriche Se volete Vedetevi un bel film Si chiama Beautiful Mind Che è una storia vera Ho fatto vedere ragazzi Non so chi vi ho avuto la vista È la storia di John Nash Un premio Nobel per l'economia Quello soffrì Da schizofrenia Uno schizofrenico Vede Ma vede Come voi vedete me Vede una persona Che non esiste Ci parla con quella persona E quella persona Gli parla Come una persona Diversa da lui Cioè I meandri Della nostra psiche umana Sono pazzeschi Quindi dice Ah ma se io vedessi Gesù risorto Crederei Sei sicuro? Vi ricordate quello Che nel mangiare di Luca Gesù dice Nella parabola Del ricco Cattivo E del povero Lazzaro Quello gli dice Ah io sto all'inferno Manda qualcuno A dire che l'inferno esiste Gesù gli risponde Hanno Mosè i profeti Cioè non la Bibbia Dove ci sta scritto Che l'inferno esiste Se ascolti No 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 Che qua Non ci credono a Mosè Ma se va morto Dall'oltre tomba Che cosa E risponde Gesù Se non credono a Mosè i profeti Pure se ce l'ha morto Non serve a niente Il che significa Che pure se ti apparisse Gesù risorto Se tu non c'hai la fede Cominci a pensare Mi sono scemito Mi sono fatto un goccetto Sono allucinazione È il diavolo Potrebbero essere tante cose Capite? Perché sono cose Comunque che sfuggono Ecco Cioè Capite? Le persone Basta studiare un po' La storia della mistica Che hanno vissuto Queste cose qua C'è un po' di dice Beato quello Ha visto la Madonna Ha visto Gesù Cristo Micronoso è tanto beato Cominciano Un sacco di problemi Cominciano Capite? Non pensate Cioè Certamente tante cose belle Ma anche tanti problemi Perché la gente Si pensava Di essere fuori Ma come è possibile C'è una cosa Che sono cose Che sfuggono Dal nostro controllo Dalla nostra capacità Anche di fare Un perfetto discernimento Quindi non pensate Ah ma se vedessi Gesù risorto Se c'è la fede E se c'è la fede Va bene Capito? Ma non è che se vedi Gesù risorto Te viene la fede Nella risurrezione È la fede Nella risurrezione Che ti fa credere Che c'è davanti Gesù risorto Un'altra cosa È contraria Così come i miracoli Non servono A far venire la fede A chi non ce l'ha Ma servono A confermare La fede Di chi già ce l'ha Capite? Perché capite? Cioè immaginate Se uno va a Lanciano Noi ci siamo stati Non so chi De voi ci è venuto Noi ci stanno I reperti scientifici Ci siamo stati Tu sai Che lì ci sta Un pezzo di pane Che è diventato carne Gli hanno fatto In analisi Un pezzo del pericardo Sono 1200 anni Che sta lì E mo ci hanno messo Tutte quante Le camere iperbariche La protezione Noi sappiamo Che c'è scienza Questa qua Cioè che se tu metti Un pezzo di carne La vai Sta all'aria Le donne lo sanno Molto bene Per tre giorni Quella la fa Potrefazione Non è possibile Cioè è una cosa Inspiegabile Da un punto di vista E come mai Che tutta Italia Non va messa Tutti i giorni Tutte le domeniche E non fanno Tutti la comunione Come mai Anche chi è nato lì K la domenica Dopo non va più A messa Tu sei matto Sei Se tu ci credessi Sul serio Sei matto Sei Capito Quello è un segno Forte Però è un segno Che uno dice Ma sarà Non sarà Cioè che capite Non è Se tu non stai Un ben disposto Chiaro che Gesù Fa il compito suo Ma qui noi siamo Nell'orizzonte Della fede Ma sapete perché Mi sentite mai chiesto Un'ultima analisi Perché Gesù Ha fatto queste cose Per lo stesso motivo Di cui vi parlo In continuazione Che non l'avessate prima Perché Dio Ha figli Non c'ha schiavi Vuole che tu ci metti Del tuo Se noi ci avessimo La dimostrazione Assoluta Incontrovertibile La nostra libertà Non ci sarebbe più Cioè tu non puoi Cioè Tu dici Io non voglio Credere al teorema Di Pitagora Se non credi Al teorema di Pitagora Se sei un alfabete Anni scorso Ma se tu hai studiato Tu non puoi Non credere al teorema Di Pitagora Se no ti prendono E ti rinchiudono Al manicomio Capito Perché tu dopo Passarci un mese Ha fatto tutti i triangoli Rettangoli Tutte le dimensioni possibili Se ci fai il quadrato Dei cateti Qualunque Sia che i lati Sono 5 cm per 3 O 100 km per 50 km Ha quadrato sull'ipotenusa È sempre uguale La somma degli altri due Poi stasi fino al giorno Del giudizio universale A fare Questo sperimento Per cui non c'è Poi non crede Cioè tu non c'hai la libertà Di fronte al teorema Di A me non mi piacere L'antonoquatematica Perché Perché mi sentivo soffocato Dico io voglio Fara la filosofia Devo Devo pensare Devo sentirmi libero E allora mi sentivo Oppresso Mi sentivo Perché Che ci vuoi dire a quello Che ci vuoi dire a quello Posso dire che non è vero Capito Mi sentivo in crisi Mi sentivo Ecco Quindi queste sono cose Importanti Quindi Se no va tutto l'incontro Su questo Non fa niente Insomma Però queste cose Devono stare Quindi Capite anche Voi che siete qui Ogni tanto qualcuno Mi dice Ma Come mai le persone Non si coinvolgono Perché Perché sono libere La libertà È cruce e delizia Perché È il fondamento Della nostra Dignità Dio non vuole Tra i suoi schiavi Gli schiavi Ce li ha solo il diavolo Gli schiavetti negri Quelli che Acchiappa E poi se ritiene Dio Non ce l'ha Tu ti metti Della parte sua Se vuoi Come vuoi In quanto vuoi Fino a quando vuoi Cioè Quando parlo con la gente Dico Io sono prego Sono felicissimo A me non mi obbliga Nessuno A fare le cose che faccio Io sto qui oggi Che qualcuno mi viene a controllare Se faccio Con il mio dovere Mettere la disposizione La mia fedele Non incontro a profondi Il Vangelo No Lo faccio Se lo voglio fare Se non lo fai Io non sarei mai Obbligato a dire la messa Lo sapete Un prete non è obbligato A dire la messa Un prete è obbligato A dire il previario Ma la messa È raccomandata Per cui se io La messa Non la dicessi Vuoi andare dal vesco A denunciare Ma di Donaldo Dice la messa E questo dice Pregate Perché io non lo posso Obbligare Perché nel diritto canonico La messa è raccomandata Per cui io non sono Obbligato a dire Capito Se io oggi Mi impazzisco E mi metto a fare un atto Io non potrei fare Non mi fermerebbe nessuno Non c'è nessuna Cioè non è che Dio ti prende E dice Ah davvero Te lo No 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 Invece Se tu stai dalla parte Del diavolo E' quello che dobbiamo prega Che hai fatto Una montagna dei peccati Sono 50 anni Che non ti confessi E quindi Stai dalla parte sua Appena vai dalla parte sua Il diavolo dovrebbe Ti mettere i griffi addosso Ti mettere le catene Non fino al punto Da impedire La tua libertà Chiamata dal Signore Di dire Basta Svuoto la vita E confesso E cambio Ma questo è molto difficile Però Non è che lo fai così E se non ci interviene La grazia di Dio Questa cosa Non è possibile Questa è tuttrina Della Chiesa La conversione È una grazia Che la persona Deve accogliere Ma se Dio Non ti dà quella grazia Una volta Che tu ti metti Dalle parti Nella mano del demono Non esci più Cioè Una persona Che non sta in grazia Vive in una condizione Simile a quella Dei tannati Una volta All'inferno All'inferno Non arriva la grazia Se tu vai all'inferno L'inferno è eterno Non perché Dio vuole Che tu sia culturato Per tutta l'eternità Ma perché se il diavolo Ti mette le mani sopra Non ti lascia più Capito? E tu non c'hai la forza Il potere Cioè Capito? Sapete le storie dei santi Padre Pio Mi ha ammazzato De botte dal diavolo Perché Dio Gli lo permetteva Cioè Noi non abbiamo Non possiamo vincere Capite? È più forte di noi Perché se tu passi Dalla parte sua Sei morto Ci vuole la grazia Di Dio Che ti dia la possibilità Di uscirne Se tu fai un atto Di volontà Per questo Che ho detto Tante persone Che vengono a confessarsi O che cominciano Se voi tutte le altre Che state qui Siete tutti quanti graziati Ci avete messo Nel vostro Perché All'offerta Della Signore Avete detto Sì Ma se non c'era Quella cosa Voi non state qua Io non stavo Dove sto Con la differenza Tra i figli E gli schiavi Capite? All'inferno Sono tutti i schiavetti I demoni Se lo sapete Il numero uno Dei demonici C'è una gerarchia De sotto Ma il numero uno Dei demoni È satano Lo sapete perché? Perché è più forte De tutti E perché se qualcuno Fiala Lo attrippa Sono terrorizzati Tutti gli altri demoni Cioè Il regime Dell'inferno È il terrore Se volete capire un po' Se avete lo stomaco forte Vedete un po' Di serie O di cose Che parlano di mafie Camorre Eccetera La mafia e la camorra Sulla terra Sono la rappresentazione Dell'inferno Il boss Il terrore Se tu sgarli Te sparo Sei morto Te distasito Tu fa niente Quello è La rappresentazione Terrina Dell'inferno È quella Con Dio non è così Dio non spara nessuno Vuoi stare dalla parte sua Vuoi vivere felice Vuoi vivere in grazio Vuoi vivere sereno Vuoi tranquillo Vuoi vivere in pace Benvenuto Se lo vuoi A Teleguanda Figlio al prodigo Luca Buon viaggio Buon viaggio Certamente Con un trattamento Dolore Evidentemente No Perché non è che Ti è contento Se ci vede Andarci a rovinare Ma non viola La nostra libertà Ecco perché c'è La salvezza Mediante la fede Dietro questo C'è San Paolo San Paolo Avrebbe scritto Nelle lettere Se resto qualche altro anno Fini di Vangeli Cominciamo pure Con lettere di San Paolo Se vuole tutte cose Ma lì San Paolo Fa la testa così La fede Dio ci ha voluto Salvi Mediante la fede Perché la fede Ti consente Di conservare Questa libertà Se tu non ci avessi La fede Non ci avessi Nessun merito Non avessi Nessun concorso Nell'opera di salvezza Che Dio ha realizzato per te Ma dove ci rimetti del tuo Tutti questi racconti Ce ne sono una dimostrazione Le ultime parole di Gesù Dopo che ha mangiato il pesce E che Dice questo Immaginate la faccia L'hanno toccato Ma questo mangia pure il pesce Dice Accidicchia Immaginate la faccia Ecco Ma come conclude Sono queste le parole Che vi dicevo Quando ero ancora con voi Bisogna che si compiano Tutte le cose scritte su di me La legge di Mosè I profeti e dei santi Quindi dopo Aver fatto vedere Che era lui Allora Apri loro la mente All'intelligenza delle scritture Come discepoli di Emanus Ecco perché San Girolamo diceva L'ignoranza delle scritture L'ignoranza di Cristo E perché Papa Francesco Qualche anno fa Ormai cominciasse da dato Perché Disse Se mi volete fare contento Leggete ogni giorno Un po' Il Vangelo Con la sua consueta semplicità Però dice bene E disse Così sta scritto Il Cristo dovrà patire E giustiare da volte In terzo giorno Nel suo nome Saranno predicati A tutte le genti Vedete La firma di San Paolo A tutte le genti L'apostolo delle genti La conversione E il perdono dei peccati Però cominciando a Gerusalemme Tanto Gerusalemme L'avrebbe rifiutata Questa predicazione L'abbiamo sentito In questi giorni Durante le letture Della prima lettura Della Messa Poiché Rifiudate il nostro annuncio E non vi ritenete Degni della salvezza Ne andiamo dai pagani Parole di San Paolo Di questo Così ero testimoni E io manderò su di voi Quello che il Padre mio Ha promesso Ma voi restate in città Perché non siate Rivestiti di potenza Dall'alto Anche questo è un particolare Di San Luca E sapete che San Luca Ha scritto anche Gli Atti degli Apostoli Gli Atti degli Apostoli Cominciano con il racconto Dell'Ascensione Con cui si chiude il Vangelo E subito dopo Il capitolo che parla Della Pentecoste Subito dopo la Pentecoste I primi passi Della vita della Chiesa Poi li condusse fuori Verso Betania E alzate le mani Di Benedisse Mentre di Benedisse Si staccò da loro E fu portato Verso il cielo Ed essi dopo averlo adorato Tornarono a Gerusalemme Con grande gioia Stavano sempre nel tempio Rodando Dio Vedete L'atto di adorazione Ormai sono certissimi Che quello Il Signore risolto E da poco E da poco Avrebbe cominciato La missione della Chiesa Bene Oggi direi che ci fermiamo così La prossima volta Andiamo a vedere La parte prima della Passione Che dobbiamo ancora Verificare insieme Ok? Domande? Bene Gloria al Padre E al Figlio Allo Spirito Santo Come era nel principio De sé Dei secoli Dei secoli Ami Ti rendiamo grazie Signore Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti